I lavoratori della ex Manfredonia Vetro sempre in attesa di risposte positive. Elliot o Sisecam? Elliot o Sisecam? Non tocca a noi scegliere. Noi continueremo per la nostra strada, cioè la strada del rifacimento forno fusorio e ripartenza dell'intero sito. Che sia Elliot o Sisecam interessa poco, ci interessano le garanzie. Però a quanto pare avete bocciato il piano della Sisecam, perché? Abbiamo bocciato il piano della Sisecam perché la stessa non ha presentato alla presidenza della task force, il dottor Caroli, il progetto per il rifacimento forno. Si è voluta tenere libere le mani da questo aspetto e quello per noi è stato un elemento predominante nella nostra scelta. Quindi preferite il fondo americano Elliot? Al momento è rimasto il fondo Elliot, analizzeremo anche la sua proposta a breve quando ci saranno i risvolti giuridici proposti. Un dato di fatto c'è ed è quello che voi siete ancora senza lavoro? Il dato di fatto è che oggi siamo ancora senza lavoro, ma per fortuna la Regione Puglia ha investito affinché noi fossimo legati ancora all'azienda e fino al 31-12 usufruiamo ancora della cassa che ci è stata concessa a fronte di un piano industriale della Elliot, tra l'altro. Intanto le istituzioni, soprattutto il Comune di Manfredonia, spinge per la Sisecam. Perché secondo voi? Probabilmente sia Gino Laureola in questo caso che Angelo Riccardi avranno forse letto loro il programma industriale, programma che a noi non ci è stato consegnato, non è stato consegnato alla Regione Puglia. Capiremo le differenze se ci daranno la possibilità di leggerlo il piano industriale, però al momento francamente noi non ci va di fare il tifo, noi siamo, ripeto, per la ripartenza del forno fusorio, garanzie che Sisecam non ultimo ieri non ci ha potuto dare fino in vondo.